Per il gruppo olandese TomTom, noto per i navigatori satellitari, si preannuncia un forte calo delle vendite, attese nel 2012 intorno a un miliardo. TomTom è passato da un utile di 108 milioni di euro nel 2010 a una perdita netta di 438 milioni nel 2011. Il volume d'affari si è ridotto del 16% per la contrazione dei mercati europeo e nordamericano.